Dari, ce l'ho fatta. Ottimo. Dove sei? Una specie di tunnel di servizio. Sono dall'altra parte. Prosegui e arriverai alla colonia. Ci hanno permesso una nuova vita. Sì, come no. E invece è sempre lo stesso schifo. Faccio pure i doppi turni, ma ancora non basta. Senti, Mel. Scusa, ma ci vorrà più del c***o. Odio sapti bloccata su elica. Ti prometto che mi raggiungerai presto. Mi manchi. Ho giunto la colonia. Tu dove sei? Vedi il faro? Ti aspetto lì. Faro, ricevuto. Ho detto che ero una perdita di tempo. Ma io, JC, non mi ascolta. Adesso la mia squadra deve pure fare gli straordinari. Spero solo che trovino quello che cercano. Non so. Spero solo che ero una perdita di tempo. Spero solo che ero una perdita di tempo. Spero solo che ero una perdita di tempo. Grazie a tutti. 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 Ok. Dovrei tornare a... Jacob. Ho... Ho trovato qualcosa. Cosa? Vieni qui. Vieni qui. Devi vederlo. Oh... 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 No, no, no. Ma hai visto niente di simile. È uscito da sotto il ghiaccio. Ora il sito è in quarantena. L'UJC ha inviato un'unità di risposta rapida, ma devono sbrigarsi. Sta succedendo qualcosa. La gente si sta ammalando. L'UJC ha inviato un'unità di risposta. L'UJC ha invito 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 un'unità di risposta. 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 di risposta. un'unità di risposta. L'UJC ci chiama raccolta nella piazza principale per le vaccinazioni. Finalmente si esce. L'UJC. Grazie a tutti. 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 Me sta avvicinando. Oh... 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 Donnie... 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 No... No... Cos'è successo? Scusa... Donnie... Donnie... Proprio... Donnie... No... Donnie... No... Donnie... 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 Sì, sto bene. Vieni, conosco... Lui conosceva una via per la superficie. Ok. Non sapevo se potessero trasferire i ricordi. Gli impianti sono collegati al cervello. E quindi perché? Gli UJC impiantava ai minatori la prima versione di quello che oggi è il corpo. Cosa si trova con me? Strano. Come... essere due persone insieme. Sono riuscita veramente a comprendere. Veramente. Come noi, tutte le cose. Sono i minatori dell'Erk. Quelli sfuggiti al massacro. Sì. 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 Il passaggio è crollato. Per salire in superficie dobbiamo attraversare la colonia. Non fermarti! Ci vediamo là! Sì. Sì. il piano superiore jacob cerca la clinica il piano superiore jacob Grazie a tutti. 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 Ok. Grazie a tutti. 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 Nessun... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci sarà il mondo. e a tutti. Ok? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. la... si è... la... ... ... ... ... ... ... ... ... ...